Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta di limone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono limone pelato a vivo, zucchero, scorza di limone e miele. Diamo e via la ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di limone. E lo facciamo polverizzare per 20 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il miele. Ed il limone. Ed azionare il bimbi per 50 secondi a velocità 7. Trasferire in basetti di vetro con chiusura ermetica. Pasta di limone. Ideale per aromatizzare i dolci. Si conserva in frigo per 20 giorni o in congelatore per 6 mesi. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!